io sono pronta e voi amiche mie lo siete ciao tesori miei ma lo sapete che vi siete mancate allora in effetti vi ho tenute sul pezzo dite la verità e che dire era natale sapete che la bossa gabbia ogni tanto non so riflettendo un po a quello che è il passato quello che è la mia famiglia siete state grandiose ragazze uno con le mie bambine ha voluto rendervi partecipi e sapete che mi piace tantissimo farlo ma io vi devo ringraziare guardate stavo sfogliando un po di ricordi e è stata la giornata dei ricordi è vero dei pensieri delle lugubrazioni della mente che va e viene ero rilassata era un bellissimo posto dove potevo rilassarmi e di conseguenza ho pensato sapete che sono una pensa pensa come si può dire una pensatrice e nello sfogliare così i miei ricordi ho visto i miei genitori beh che dire devo essere davvero d'accordo con voi uno perché ho nella mente il le parole di mia mamma quando mi diceva sempre quando aspettava mio papà da fidanzata che non arrivava mai quando arrivava una volta ogni 15 giorni perché lei era abbastanza così una brava ragazza di casa e lo aspettava mi diceva sempre dietro la finestra lui arrivava con il bastone vestito come come vedete perché ovviamente faceva parte del suo il cappello e che dire quando vi dicevo che aveva sempre il io ricordo quello che mi diceva il fazzoletto al taschino ma ho persino ingrandito la foto aveva persino la camicia inaminata e ho dovuto risalire un attimo ho fatto due conti si tratta dell'anni 50 proprio 50 50 50 50 ho fatto i conti di quando se ho dovuto fare i conti perché non mi ricordavo esattamente l'anno di quando si sono sposati quindi sì per me motivo di grande orgoglio ma voi siete state strepitose quando dico sorelle zie e mamme e se voi siete tutto per me e per le mie nipoti e per la mia simona quindi ragazze grazie di esserci state di essermi stata vicina e di avermi detto tutte queste cose vero che sembra un attore mio padre e comunque sia vabbè non hanno fatto poi chissà che cosa erano sarti come vi dicevo sempre dai quali ho preso comunque spunto per poi avviare le mie attività e via dicendo però ecco mia mia riportato così un pochino indietro tanti ricordi bella questa cosa devo dirvi bellissima ma insieme a voi ancor più bella quindi amica mia grazie 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 oggi sono entusiasta perché è venuto il nostro ale è appena appena partito e vi saluta vi saluta ale vi saluta vitri saluta la antonella che sono anche loro operativi stai ferma gabrie che continuo tu dimmi e carte se ti faccio tribunale ma abbiamo tantissime cose nuove scontate in aggiunta a tutte le altre ragazze che devo dire adesso vi mettete lì buone buonine perché c'è uno stand pienissimo vi terrò sicuramente un'oretta di compagnia se avete da fare andate a fare i vostri giretti siete in montagna siete non so dove siate fate quello che dovete fare la vostra gabrie la trovate dappertutto ok sul sito gabbia stabilimento donna.com il negozio aperto quindi siamo villa carcina vi aspettiamo facebook la pagina gabrie stabilimento donna fate così mettete questa questa voce e io vi appaio come per magia borsa 39 euro cominciamo ragazze perché altrimenti guardate qui io non so se questo abito ve l'avevo ancora indossato quindi lo re indosso se fosse stato così perché l'abito scontato a 49 euro cos'è cate da dire c'è monica che ti manda un bacione monica ed è ricomparso fabio sempre stupenda grazie fabio accetto questi sono andata a vedere non ci conosciamo ma comunque sia accetto questi complimenti perché sono sicuramente carini quindi essere seguite sicuramente siamo seguite anche da qualche ometto perché insomma non è che possiamo selezionare comunque sia io sono indirizzata sempre alle nostre amiche perché ho un abbigliamento femminile questo magari è anche il caso di dirlo ma grazie 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 poi grazie a tutte voi per tutto quello che sapete facciamo così borsa stupenda meravigliosa 39 euro guardate la meraviglia di questa borsa tra altre cose fa pandani in assoluto per come io sono vestita poi guardate giusto per vedere il nostro bellissimo bracciale che a me piace è farvi vedere ma questa è una spila la mettete dappertutto i nostri bracciali a 5 euro li mettete dappertutto adesso tolgo un attimo perché poi vi voglio far vedere quindi bello anche portato così in accoppiata vedete una meraviglia sì 20 euro 39 euro 5 euro i bracciali che sono stupendi sono i nostri i cuginetti delle nostre caramelline che sono tutti diciamo cristalli sia infilati con l'elastico sia fissi e sono tutti bellissimi da 6 a 8 euro perché anche quelli non dobbiamo trascurarli e poi con che cosa cominciamo va beh questo lo sapete ne abbiamo scontato da poco da 129 euro a 89 euro ed è stupendo che dire se non è una meraviglia ditemelo voi ragazze quindi è stupendo io lo porto al lavoro lo porto su un abito in maglia lo porto per appesantire ad esempio l'abito che indosso adesso vi faccio vedere come si fa questo ad esempio è l'abito in jersey di viscosa eccezionale guardate lo porto col biker lo porto con tutto sì quando voglio diciamo dare un tocco di femminilità e mi piace nei video perché poi giornalmente riscate col tacco difficilmente le posso portare perché sono sempre di corsa comunque sia in abbinamento l'abito lo potete gestire come volete e poi arriviamo ai prezzi quindi questo trencio meraviglioso che c'è verde c'è nero e c'è questo viola stupendo poi voi dovete sentire la morbidezza e guardate guardate cosa diventa dirgli che è morbido dovreste essere qui a toccare ecco diciamo che quando indossate questo capo viene la voglia di accarezzarmi ok quindi avvicinatevi qualcuno e fateli accarezzare perché questo è proprio un pezzo che attira a questa cosa quindi si qui ci metto del mio ma è stupendo bene dimmi a te marisa bentornata assomigli tanto al tuo papà le tue nipotine sono bellissime sei una super donna grazie e ruberta dice ciao bellissime mi penso sempre ciao rovi adesso vi dico una cosa io è vero quando voi dicevate assomiglia a mamma assomiglia a papà lì erano tutti e due abbastanza snelli abbastanza asciutti molto giovani fantastici e io quando ero bambina se mi dicevano assomiglia a tua mamma no voglio io assomiglio a mio papà questa cosa era proprio scritto non c'era verso io il mio papà io volevo assomigliare mio papà e in realtà se devo dire sia io che mio fratello fisicamente proprio la corporatura l'oss proprio l'ossatura come vi dico sempre le gambe tornite tutto quanto secondo me è più dalla parte di mio papà il fatto di essere mora e lì la mia mati ha seguito la sua nonna meno male meno male perché mi abbronzo facilmente quindi la carnagione è tutta di mio papà quindi io dico che al 70 per cento mio papà e con l'altro 30 per cento la mia adorata mamma ecco facciamo così caratterialmente io ve l'ho detto tantissime volte mia mamma così chiudiamo il cerchio dinamica di quelle come me che sanno fare tutto quindi io faccio la parte dell'uomo la parte della donna se c'è qualcosa da smontare da fare da sbrigare io faccio tutto mia mamma era così quindi questa questa manualità e questo vedere lungo le cose l'ho presa da lei la bontà di voler andare d'accordo con tutti essere un pacere questa cosa l'ho presa da mio papà ecco e ve l'ho già detto quindi diciamo che questo mix fa sì che la vostra gabri sia quella che è e poi francamente me la dico tutta ci ho messo tanto anche del mio e sto continuando a mettercelo quindi che dire ragazze simone adesso è arrivata e la sua testa ce l'ha vedrò cosa riuscirò a fare tempo permettendo con le mie nipotine che sicuramente man mano diventeranno grandi vedremo un attimino cercherò di insegnare loro quello che secondo me dico secondo me proprio sono delle cose essenziali che vero che se le hai o non le hai fa la differenza però ci si può sempre arrivare spiegandole e imparandole basta ragazze comunque grazie ma siamo una grande famiglia giusto quindi conoscere tutto quello che sta dietro secondo me è quello che ci unisce ancora di più ed è quello in cui credo bene adesso sembra banale ma no torniamo a fare quello che è perché ragazze io è vero che sono nata in mezzo ai tessuti giocavo in mezzo ai tessuti sotto il bancone di mio padre le ho sempre visti cucire le ho sempre visti col centimetro al collo cosa che mi viene molto facile fare qui per misurarvi perché è quello che facciamo ma anche il fatto di indossare e a parte l'ambizione ma proprio il fatto di indossare di conoscere il tessuto di guardare le finiture prima di fare gli acquisti per cercare di mandarvi quello che è al meglio che cosa questa giacca ve la ricordate che ha sotto il pantalone sigaretta con lo stacchettino e l'abbiamo tagliata da pochissimo tempo bene oggi ordine dall'alto questa giacca da 89 euro passa a 49 euro guardate ragazzi che questi sono i prezzi che rimarranno da oggi in avanti 49 euro forse sono un attimino le più assortite quindi verde mi indosso una 42 potrei mettere anche una 40 perché sapete che è in crepe quindi tessuto fantastico e meraviglioso io arrivo a casa prendo i miei pezzi per dire sono vestita così arrivo a casa questa sera butto in lavatrice lavaggio breve 15 minuti lo metto sulla gruccia e domani sono già pronta per rimetterlo quindi dicevo attenzione bene da 89 euro passa a 49 euro qualcosa nel nero non tantissimo marrone e verde dalla 40 alla 54 tutti i nostri capi voglio ricordare quando vengo escono dal taglio e dalla produzione hanno questa diciamo questo divario di taglia dalla 40 alla 54 poi ovviamente quando si fanno questi prezzi possono non essere assortiti dimmi cate allora abbiamo un sacco di buongiorno buongiorno e poi c'è Antonella che dice è bello il completo verde del manichino potrei sapere prezzo e taglia certo che sì certo che sì le taglie partono probabilmente la nostra amica è nuova non ha ancora avuto la possibilità di vederlo è il nostro diciamo completo tre pezzi coccoloso vi dico che è una maglia bella calda neanche pesantissima ma sostenuta bella quello che deve essere per sostenere un tre pezzi quindi amica mia ti dico solo i prezzi scontati perché i prezzi pieni erano diversi sono 39 euro la maglia ed è uno smanicato sotto al quale ci puoi mettere un'altra dolce vita o scusa un'altra maglia giro pollo magari bellissimo portato con la camicia che scende calzone scontato a 39 euro e il cardigan scontato a 49 euro quindi ci sono 20 o 30 euro di sconto su ogni pezzo i prezzi sono 39 39 49 qui l'abbiamo messo con la cinturina l'abbiamo messo con le nostre caramelline che dire il cardigan è eccezionale si può prendere sfuso si può prendere a tre pezzi e poi bisogna dire che lo abbiamo qualcosa nel bianco ma poco pochissimo 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 voi adesso dovete chiedere su whatsapp perché ragazze non chiedete qui sotto nei miei ma su whatsapp noi siamo tornate operative quindi fino il 31 è domenica quindi noi fino sabato siamo operative le spedizioni facciamo fino a venervi oggi sicuramente avere verano i pacchi che alcuni di voi magari stanno ancora aspettando quindi questo ve lo facevo vedere grazie alla nostra amica che me l'ha chiesto prima e ho dimostrato prima giacca allora ve lo dicevo ha il suo calzone sotto possiamo far vedere la tua carta perché si me l'ha detto un secondo prima di uscire di conseguenza non ho nemmeno avuto il tempo di mettere il calzone quindi ve lo faccio vedere qui questa una 44 il calzone a sigaretta stupendo e meraviglioso ma bimbe se andate indietro nei video me lo vedete indossato l'ho messo marrone l'ho messo nero l'ho messo verde quindi avete la possibilità visto che i video rimangono fissati sulla pagina sul sito su youtube il canale youtube ragazze ieri sono stata in passeggiata in un posto meraviglioso praticamente ho fatto tantissime conoscenze ma tantissime conoscenze negozianti che poi mi seguono che poi mi vedono gente che mi ferma per strada e ho incontrato delle ragazze ho fatto anche acquisti perché io poi quando esco sono pericolosissima ma molto 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 pericolosa e ho preso un prototipo di borsa un prototipo perché se ne sono state prodotte cinque con delle gemme di swarovski ragazze che sono una meraviglia non sono stata capace a trattenermi comunque dicevo anche a queste ragazze se vedranno il mio video io le saluto e perché stavo dicendo questa cosa non ricordo perché stavo dicendo questa cosa forse perché per dirvi che gabriesse è seguito anche da lontano ecco forse vi stavo dicendo questo e che dire quindi calzone lo portiamo a 39 euro cate mi viene male viene stato tagliato in crepe ragazze giacca dalla 40 alla 54 mancheranno sicuramente delle taglie vi ridico verde marrone e nero marrone poi è fantastico lo vedete a ecco perché parlavo di youtube sì che non avevano nessun tipo di social ecco perché vedete c'era un nesso ha detto beh vai chi non ha altri social andate su youtube mettete gabrieesse abbigliamento donna vi iscrivete lì e praticamente al mio canale e potete seguirmi in tutte le situazioni ok ragazze bene torniamo a noi che dire io prendo la giacca e prendo questo che magari poi alla fine ve lo mostro inutile ricordarvi le nostre giacche top pantalone abito che l'avete visto negli ultimi video l'avete visto indossato anche a cate il giorno di natale nel natale 54 che è fantastico avete visto e tu cate puoi dire qualcosa sulla morbidezza e sulla tenuta di quel capo sulla mia morbidezza del capo allora che c'è una morbidosa lo sappiamo che le nostre amiche vogliono che voi e vi mostriate sappiamo anche quello vero ragazze tu sei in tinta anche tu cate questo questo si prende una 54 che è una meraviglia lavoriamo ragazzi gli occhi qui cosa abbiamo abbiamo la gonna quella che indossavo stupenda meravigliosa ci ho fatto tutta la settimana con il biker bella perché poi ha questo spacco pronunciato che si vede leggermente la gamba con sotto il tulle a 59 euro non ricordo più il prezzo di questa maglia che alla doni piace da morire ricorda anche che arriva solo fino a una certa taglia 46 46 quindi vabbè alla vita elasticizzata però un 46 46 diciamo bisogna che fa testo molto è la vita perché poi sotto può essere anche un 48 si è molto elastica al limite si tolgono l'elastico e si slabbrano un po la cintura come con il ferro da stiro come faceva mio papà diceva che il ferro è la cosa più importante nei tessuti perché si riesce a perso un cartellino perché si riesce proprio a modellare quello che è la spalla il collo di una giacca cioè lui con il ferro sistemava qualsiasi difetto quindi avete qualcosa che vi stringa perfetto l'ho fatto anche non so con che cosa forse con una cuscia l'ho messa sull'asse da stiro l'ho stirata l'ho slabbrata un attimo ed è andata alla perfezione quindi il ferro è magico ricordatevelo quando lo dovete utilizzare per le cose che vi dice gabri lavare stirare e non stirare una cosa da imparare sono due cose diverse 50 allora questo è scontato a 59 volevo beccare il cartellino della maglia che non ricordo più che qui non c'è vabbè ve lo dico dopo ragazzi a me sembra scontata a 39 anche questa però è dietro e non riesco a toglierlo ha questo mega fiocco stupendo ragazze chi di voi è minuta o magari non ha tantissimo seno fatela questa maglia perché è una delizia 59 39 lo dico io e 59 abbiamo ancora una nera bellissima cosa dire dell'abito che indosso allora io ragazze l'ho indossato con la cintura si può fare a meno potete tenerlo proprio dritto dritto e avete una lunghezza di questo genere vedete che ha questi arricciature laterali volete dire guarda vedete la gabbie cosa fa le magie ok prendete l'abito lo raccogliete fate quello che volete io lo sto parlando portando mini midi e si vede che sono stata ferma due tre giorni no vabbè lo sto portando con la cintura a 20 euro per farvela anche vedere poi voi scegliete i vostri abbinamenti scegliete quello che volete ragazze scontato da 79 euro a 49 euro c'è anche nero che costava 69 scontato a 49 euro anche quello poi tutto 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 tuffiato alle trombe ragazze perché preparatevi preparatevi vabbè già che ci sono faccio vedere anche questo poi preparatevi a quello che arriva dopo questo è il gilet che io ho scontato vi dico subito vediamo eh qui abbiamo il suo calzone a 49 euro da 69 questo gilet è stupendo il calzone qui quindi lo vendiamo comunque a completo eccolo qui quando voi poi avete scontato a 39 euro il pantalone con la tasca vedete a filetto ma quanto è meraviglioso questo completo lo vedete indossato il il gilet lo potete chiudere sormontare con sotto abbiamo la camicia verde abbiamo la camicia bianca abbiamo la camicia viola abbiamo di tutto da mettere sotto dolce vite maglia 30 euro di tutto un po però è anche vero che quando voi avete per dire un gilet così nell'armazio a un passato potete scegliere di buttarlo soprattutto ok bene 49 euro il gilet e 39 euro il calzone e questo ve l'ho fatto vedere mostriamo e li tenetevi forte facciamo vedere questo cappotto che è una delizia io credo di averlo già fatto vedere con un altro abbinamento e sembrava tutto un altro cappotto ma guardate quanto è bello cosa facciamo sono in luce sono giusta sì sì perfetto non c'è nemmeno il sole che ci diciamo illumina oggi che dite ragazze ma il mio sole lo vedrò dopo tra poco quando finirò il video ragazze 129 euro scontato a provate 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 a immaginare 89 euro cappotto nuovo tagliato da pochissimo c'è così e c'è rosa cameo meraviglioso 89 euro il nostro cappotto in panno mirin brescia vedete quasi elasticizzato sembra una maglia all'interno lo potete doppiare lo potete portare da solo è fantastico a soli 89 euro dalla 40 alla 54 quindi bimbe cosa vogliamo fare qualcuno di voi si sta già chiamando al telefono ma non possiamo rispondere risponderemo dopo kate dove dove kate risponderemo su whatsapp ahimè ahimè di cose che si è stata ferma tutti questi giorni troppo pochi troppi 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 per noi questa questa stasi così non va bene guardate ragazze questa stola la vogliamo prendere buttare si stanno anche sempre mia figlia quando mi chiama che se non rispondo le ha sempre in mano il telefono e quando io la chiamo non risponde mai ci fosse una volta che se non mi risponde al telefono ma quando lei chiama me non mette ma anche i vostri figli fanno così vabbè comunque ragazze bellissima questa stola a 20 euro portata qui io adesso posso farvi vedere questo ma è una 46 lui diciamo parte dalla 46 la taglia più bassa perché ragazze lo sapete li abbiamo venduti tutti ecco perché guardate che grande non ve lo voglio far vedere 46 50 52 mi sembra che sia rimasto comunque sia a prescindere da quello lo stringiamo ve lo faccio vedere perché anche questi ultimissimi pezzi ne abbiamo tre verdi uno blu e basta ok piatto le trombe 89 euro invece di 139 quindi cosa devo dirvi sono gli ultimi fatevi avanti siate veloci scrivete su whatsapp ragazze mie perché è da lì che lavoriamo come se il nostro diciamo la nostra chat di whatsapp diventa il vostro camerino ok quindi lì provate è come se provate le vostre cose fate le vostre richieste e via dicendo noi cerchiamo di accontentarvi siamo posto caten posso continuare allora questa è la lagone che ho fatto vedere lì abbiamo solo sml quindi vedete che di fianco essendo elasticizzata può arrivare anche un 8 quello che è un po meno è la vita prendiamola qua c'è una l se faccio vedere anche questa cosa il video non finirà più oggi ve lo dico ma visto che magari siete a casa dal lavoro avete il tempo vedete che c'è questo praticamente sostegno scherzi a parte potete togliere l'elastico e davvero slabrarla un filino qui davanti l'hanno sigillata perché hanno messo entro la frisellina sbagliato perché potevano lasciarla tutta morbida comunque dalla 40 42 44 46 è la sua taglia giusta ok poi se voi volete togliere la cintura dalla vostra sarta allora arrivate anche molto più su perché la potete gestire come volete a questo punto vi faccio vedere le nostre camicie tutte a 49 euro le camicie con la manica lunga questo è un calzone se volete potete prenderlo è in crepe la crepe uguale per tutti vi fate ancora un abbinamentino vedete spezzato 39 euro e questa una taglia 40 poi vi posso dire ho qualche taglia ma poche di questo quindi 39 euro ragazze scontato da 59 lo mettiamo qui e poi lo abbinate sopra a tutto le camicie erano dalla 40 alla 54 non vi sto a staccare per dirvi le taglie chiedetele amori miei chiedetela chiedetela e poi vedremo cosa riusciremo a darvi ok tutto su whatsapp gonna in maglia stupenda e meravigliosa una lunghetta super femminile in maglia questa è una storia che come vedete va a legare tutto quello che ci fate girare sotto sia che mettiate il grigio sia che mettiate magari l'azzurro se che mettiate il nero fate quello che volete questo vi devo dire a lei mi ha confermato che il nero è l'ultimo e lo abbiamo ribassato a 59 euro mi raccomando c'è più valore di una zip essendo un chiodo qualcosa di questo lo abbiamo nel bianco e nel lilla quindi li abbiamo ribassati a 59 euro questo nero è l'unico pezzo ok quindi se volete fare questo abbinamento ci potete mettere anche questa maglia scontata sotto a 39 euro io dico questa ragazze fate il completo bianco e nero cioè io qui ho messo degli outfit a colore questo è un colore poi ho messo il bianco e nero poi ho messo il fucsia poi ho messo l'azzurro poi ho messo il bianco e il blu giusto per farvi vedere quante cose si possono fare ovvio che questa la buttate sotto a tutto 39 euro scontata da 59 59 euro il chiodo 39 euro la gonna ok vediamo se è stata sì 39 euro cosa vi posso dire molto bella la gonna palloncino abbiamo ancora qualche pezzo quindi 39 euro da 59 euro la gonna la maglia fotonica lo sapete anche per il tessuto vedete queste sono taglie piccole ma poi voi chiedete che riusciamo a darvi sicuramente qualche cosa in assortimento vedete 42 46 50 52 non posso averle tutte qui poi essendo in maglia ci si gioca comunque 39 euro e 39 euro ok cos'è Susanna chiede la taglia del chiodo Susanna Susanna 40 ho appena detto Susi taglia 40 40 a 59 euro ma bianco e lilla che secondo me è fantastico c'è qualche taglia in assortimento quindi se ti interessa quello gioia mia chiedi e poi li chiediamo Ale perché 59 euro non ne abbiamo mai messi come prezzo camicia anche questa costava 79 euro a 49 euro ed è una delizia vedete che io vi sto facendo vedere cosa possiamo mettere e sul calzone e sulla gonna palloncino e su tutto quello che più vi aggrada meravigliosa e facciamo dalla 42 alla 54 chiedete e vediamo che cosa vi possiamo dare a questo punto non vi faccio più l'abbinamento sotto si a dire la verità avevo messo qui la giacca quindi facciamo che possiamo fare ancora un abbinamento così taglia 40 40 42 diciamocelo chiaro perché questa giacca vedete che poi la mettere anche io adesso la provo sopra questo abito bene se poi volete mettete la camicia che vi ho fatto vedere oppure mettete il golfi il maglioncino giro collo a 30 euro un golfino meraviglioso giro collo a 30 euro anche questo mettiamo tutto a 30 queste maglie tutte tutte a 30 poi lo diciamo radoni e anche questo incrocio stupendo meraviglioso e sono caldissimi a 30 euro ok qui vestiamo 40 42 44 46 meno con questo ok ma agli altri ci arriviamo tranquillamente quindi chiedete 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 volete fare una cosa per dire molto carina e andare in sintonia con qualcosa di più chiaro possiamo è un colore che sta benissimo portato anche con il grigio perché vi sto facendo questo abbinamento perché vi porto mi avvicino a questo stupendo giacchino bon ton che è una meraviglia vi volete tenere siete sedute se non siete in piedi non lo so comunque attaccatevi al tavolo 119 euro scontato a 69 euro è una meraviglia che a te mi aiuti panna nero glicine e questo colore bluet che meraviglioso i colori sono questi in taglio è uscito dalla 40 alla 54 chiedete datemi le vostre misure e vi diciamo cosa possiamo fare quindi la giacca 49 euro scontata in bengalina non la provo se no questo video non finisce più ma posso provare questo cate per farlo vedere alle nostre amiche perché perché a 69 euro è una cosa pazzesca in quattro colori ok io non lo so tutto foderato questa è una 40 vabbè magari ci sta lo stesso ci sto nel 40 ci sto nel 42 ci sto nella 46 facciamo che come vi dico sempre basta saperle un po portare le cose cambiate un attimino il modello ma sono anche rotta l'unghia fa niente e quindi tutto lo potete gestire taschine esistenti quindi ragazze un discorso sartoriale all'ennesima potenza se poi lo volete diciamo così elaborare con tutte le storie che vi ho fatto vedere a 20 euro che sono state oggetto di regali meravigliosi comunque sia vedete che è grandevolissimo lo abbinate sotto tutto se ti giri fai vedere che abbiamo anche il pelo piano piano non fa girare la testa le nostre bimbe a 39 euro abbiamo anche il pelo se volete da abbinarci sopra quindi 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 questo è il cappotto andiamo nella zona del bianco e nero con un po di colore questo è il cappotto che vi avevo indossato rosso lo ricordiamo bianco nero rosso e azzurro ok Katia dalla 40 alla 54 non vi posso dire le taglie che abbiamo in magazzino ma questa è una 40 vabbè oggi ci sto anche in questa eh che dire price tell me the price please da 129 euro a 89 euro quindi vi prendete questo cappottino arriverà a Pasqua che non so nemmeno quando cade va bene così lo starete portando ancora adesso ci mettete le storie un po' pesantine lo portate da solo con sotto qualcosa con sotto una giacca con una mantella sopra fate il vostro gioco amori miei e decidete questo secondo me fino a maggio ce lo portiamo scontato a 89 euro ok quindi l'ho indossato nero per farvi vedere tutto foderato il nostro Made in Brescia quando fa le cose colpisce sempre nel segno e nell'anima testa cuore e anima sono le tre cose più importanti e se veniamo colpita lì ragazzo è tanta roba cosa dite voi Susi stai zitta Susi stai zitta ok bene lo vogliamo vedere l'abito che vi ho appena provato indossato lo vogliamo vedere bianco come vi dicevo con sopra questa stola meravigliosa che può diventare più nera più e cru fate quello che volete e poi ci abbiniamo sotto tutto quello che vi vado a far vedere 89 euro questo cappotto è quello che ho appena indossato ricordo i colori nero bianco azzurro e rosso ma come sono tornata dinamica ragazze non so non so non so come mai allora novità novità ecco nelle novità prima probabilmente ho spostato una cosa adesso la vado a prendere aspettate un secondino bravo sa gabri arriva fa tutto cambia i prezzi monta sbriga fa allora eccolo qua eccolo qua avete presente il nostro leggins io li ho presi entrambe ovviamente non possono mancare nel mio armadio e per la morbidezza e per come stanno addosso e perché è un leggins che metto adesso e poi lo metterò sempre anche questo fino a maggio sicuro eh ebbene sì ho resistito ho resistito io eh fino a pochi video fa ho detto ah questo resta 59 bene da oggi vando alle chiacchiere 39 euro e guardate che 20 euro su un leggins e tutto quello che ci può guadagnare il Medi in Brescia è la sottoscritta quindi 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 ragazze 39 euro pensate pensateci voi vi ho messo anche le camice che io penso bianche sono quasi terminate due quattro mi sembra si quello che c'è lì comunque chiedete che abbiamo anche le giacenze se c'è giù se c'è qualcosa giù io vabbè avendo staccato con la testa due giorni raga non mi ricordo comunque qual è questa quella con la coda meravigliosa in in raso crepe ambersatè bellissimo ok è nera quindi perché non farvi questo abbinamento questa con il leggins bianco e questa con il leggins nero tanto ragazze che ci frega 39 euro i calzoni i leggins e 39 euro le camicie cioè mi sembra di fare dei prezzi guardate in base alla nostra qualità sapete cosa ha di bello questa camicia che anche se è bianca arriviamo lì la buttiamo in lavatrice però tiri fuori la indossi e non c'è bisogno di stirarla io non amo stirare quindi il pensiero di indossare le cose e poi poterle rimettere immediatamente beh secondo me è tanta roba ragazze quindi siamo concentrate era dalla 40 alla 54 le camicie oramai un po' nì credo che i leggins qualcosa ancora ci sia di assortito ma non tralasciamo ragazze questo ve lo portate anche la sera d'estate punto e non aggiungo altro il tessuto è quello del leggins ed è una meraviglia avete visto la storia di questi giorni perché avendo più tempo sono stata abbastanza sul social quindi non è per vantarmi sapete che da quando ho aperto qui ho fatto la pubblicità a mia immagine e somiglianza poi tanto sono qui esposta sempre tutti i giorni e quando vedo il mondo vicino dico mi vedono dappertutto quindi ci seguono persino dall'Australia salutano la nostra amica quindi ci vedono veramente dall'altra parte del globo che dire questo abito e c'è anche nero ed è lo stesso tessuto del leggins ok che è un jersey doppiato meraviglioso quasi addirittura impossibile mostrare la trasparenza sapete che il bianco appena appena vabbè ragazze ma è il suo bello non è trasparente perché anche il leggins è un leggins che porto anch'io non ho più il nero qui ma c'è qualcosa di nero ancora in magazzino quindi bianco nero e verde white green e black ok ragazze stupendo vi dicevo se andate a vedere la storia che sta ancora sta circolando devo dire che stavo veramente 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 bene con quell'abito ultima giacchina perché l'abbiamo messa qua perché da mettere su tutto ecco abbiamo ancora qualcosa nel nero di forse qualcosa sì di bengalina forse ancora un 42 qualcosa c'è mi sembra di vedere là in fondo è qualcosa secondo me anche di più grande forse anche qualcosa di sbragato non lo so non ricordo più niente ragazze scrivete su whatsapp giacca bengalina taglia 40 super chancrata meravigliosa possiamo andare a mettere su tutto quello che vi ho fatto vedere finora compreso prendiamo un abito a caso ok ce lo mettiamo sopra che dire se non è una meraviglia questo abbinamento con una giacca scontata a 49 euro l'abito l'ho detto che da oggi no eh bene 49 euro cioè ragazze 49 euro questo abito ma voi dovete dirmi ma voi dovete dirmi già secondo me andava ha sbagliato a prezzarlo a 69 ma mi viene mi duele il cuore apprezzare questo tessuto a 49 euro ve lo dico subito dalla 40 alla 54 ok bimbe dimmi a te ci sono le mie amori allora tutti buongiorno poi abbiamo addirittura auguroni donne grazie poi Emanuela che voleva sapere il prezzo dal tuo abito 49 euro scontato da 79 è meraviglioso guardate che un jersey cioè e poi è viscosa è bello indossato ve lo sentite che è una meraviglia e poi c'è Mirka brava e bella Gabri la mia Mirka mi accompagna mi accompagna sempre ovunque e in ogni luogo e poi mi leggi dentro eh Mirka Mirka è tanta roba anche lei ragazze se vedete il suo nome lì sotto che io tendo a non pronunciare e poi potrò vedere mi consulterò con lei se potrò dirlo oppure no è una donna super 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 conosciuta andate a vedere il suo profilo andate a vedere magari anche sì la sua foto tante di voi la riconosceranno perché è stata con noi oltre uno schermo e l'abbiamo seguita sicuramente con personaggi famosi e molto 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 importante quindi Mirka portarti nel cuore per essere la mia amica guarda motivo di tanto orgoglio chapeau eh Mirka mia bene che emozione ma che emozione che emozione che emozione tu sai che oggi dovevo essere qui e non potevo essere da te ma recupereremo questo che cos'è è allora l'ultimo ho 3,40 come completo giacca 7 ottavi scontata a 59 euro da 99 calzone lo metterei anch'io questo anche se è una 42 perché praticamente è è in crepe ok? quindi 39 euro il calzone 59 euro la giacca possiamo abbinarla con questa meravigliosa guardate che questo drappeggio qui ragazze tanta roba tanta roba quando lo avete indosso eh vi copre il punto cruciale che tutti abbiamo non preoccupatevi che ce l'abbiamo tutte il punto cruciale quindi 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 arrivava dalla 40 alla 54 in questo caso questa è una 40 ma vedo che ne abbiamo alcune lì anche nelle taglie morbide chi vuole 59 39 e 39 e fa un completo bellissimo volete invece siete fredolose cosa che non sono io volete mettere la dolce vita allora questa ne abbiamo qualche pezzo con il glitterato a 30 euro meravigliosa morbidissima perché sapete che la vostra gabri è fastidiosa e se ve lo dico io potete fidarvi l'ultimo calzone che potete anche spezzarlo potete anche portarlo con le giacche che vi ho fatto vedere ora anche questa per dire ha due bottoni scontata anch'essa a 49 euro sebbene sia appena stata tagliata quindi anche questo l'ultimo penso una taglia 40 42 ok ma anche 44 è una cosa questa crepe voglio dire dipende che 44 siamo sempre lì comunque non ha l'elastico in vita non guardarmi scettica ma limite misuriamo comunque ragazze 39 euro anche questo ok è sempre stato a 59 quindi vedete voi quando io voglio essere un po' femminile un pantalone palazzo è sempre bello a parte che femminilità ha l'ennesima potenza anche con uno dei nostri leggings qui bianchi e neri eccolo qui il suo gemellino questo è il gemellino e ce l'ho sempre 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 con me questo è uno degli abiti che prenderei doppio sì e ve lo dicevo avete notato che anche lo spacco dietro vedo ragazze perché lo porto con tutto è proprio l'abito che anche questa primavera va quando volete mettervi qualcosa che non sentite addosso questo lo è 49 euro anche questo bene il giacchino che abbiamo mostrato prima e parliamo di questo dove vi ho detto che c'è così c'è nero c'è bianco e c'è bluette testimonianza da 119 euro a 69 euro vado piano perché a spiegare questi prezzi e queste qualità tutto foderato con le tasche che sono reali tutti questi bottoni cioè ragazze questa è una cosa sartoriale ok ecco qui ci fosse mia mamma e mio papà direbbero mamma mia come si fa a lavorare così ecco diciamo come si fa a lavorare così eh 69 euro e lo buttate sopra tutto che fastidio quest'ugne che mi si è spezzata qui devo fare una piccola 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 parentesi perché ragazze sono gli ultimi catemelo confermi sì sì ma non posso non farvi vedere questi due abiti che sono una 44 vestono 44 e 46 ok io li ho indossati li avete visti se volete andare indietro nei video li vedete cioè ragazze io non lo so ma 49 euro questo abito cioè è una cosa vedete lo facciamo vedere nel bianco perché nel bianco risalta molto 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 la lavorazione ed è una favola eh non fa sedere non fa ginocchia cioè ragazze sono due 44 vestiamo 44 e 46 ok datemi le vostre misurine saranno vostri perché questi due abiti sono meravigliosi meravigliosi con cosa giacchino nero che vi ho appena menzionato a 69 euro e lo girate sopra a tutto bene ne è finita la serie di bianchi e neri poi li troviamo anche di qua abbinati in un'altra maniera quindi vi ricordate il nostro cappottino 7 ottavi questo è sfoderato con i bottoni così belli grandi stupendo e meraviglioso che vi potete tenere anche come giacca cardigan interno e esterno è un cappotto a tutti gli effetti meraviglioso con questa nostra meravigliosa stola a 20 euro bene da oggi da 119 euro 69 euro non ci credo non ci credo ma è così è così è così colori c'è anche il nero vero Kate? sì e c'è anche qualche pavone era nato per coprire la taglia 40 e le nostre bellissime morbidose fino alla taglia 54 ok non posso sapere cosa c'è in magazzino cosa abbiamo come giacenza voi chiedete ok e vi sarà dato 69 euro sto qui un attimo così perché è troppo bello troppo 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 bello e con cosa lo possiamo abbinare? bene lo possiamo abbinare secondo me prendiamo questo completo che qualche giacca abbiamo qualche pantalone abbiamo quindi 39 euro il calzone in bengalina che sapete essere stupenda e meravigliosa super viscosa ed elastico in conclusione la nostra giacca bellissima che abbiamo chiamato giacca cardigan perché la buttate sotto tutto 49 euro e le nostre maglie tutte super scontate a 39 euro vogliamo prendere e fare questo abbinamento con questo giacchino qui con questo cappottino guardate qui a 69 euro ma ragazzi stiamo parlando di un cappotto eh cioè ve lo devo indossare? no? l'avete già visto? lo indosso? non c'è qui nero fa niente l'indosso di questo colore così avete modo di vederlo 39 49 39 39 e 69 euro il cappottino che è una taglia 40 ma mi andrà bene anche questo dalla 40 alla 54 scusate un attimo ci arrivo piano piano vedete? ovviamente di questo porterei la 42 perché sta bene anche più morbido potete portare anche la 44 ma io ve lo voglio far vedere indossato a 69 euro ed è pure elasticizzato giusto per eh guardate volete metterlo con un calzone nero volete metterlo con eh i tagliere che vi ho appena fatto vedere ormai tutti i tagliere hanno le giacche 49 39 quella 7 ottavi 59 comunque non stiamo a lesinare voi chiedete su whatsapp e noi vi daremo tutte le dritte cappotto come quello verde che ho indossato prima stupendo il colore questo ragazze lo abbinate a tutti i burro a tutti i cammello a tutti i neri a tutti i grigi a tutti i blu qualsiasi colore 89 euro invece di 129 euro ok ascoltateli bene questi eh io non vorrei parlarvi di quello iniziale vi parlo solo di quello scontato e non vi metto tante cifre in testa 89 euro questo cappotto ok cos'è? una meraviglia ok meraviglia in finitura facciamo vedere che questo guardate vedete che questo panno alla fine dentro perché è elasticizzato perché sembra è un jersey vedete si riesce a far vedere si ma il colore non è uguale eh perché oggi ho questo telefono quindi questo è il colore cameo come lo vedi Cate? lo vedo quasi beige figurati addirittura con la luce sì così lo vedo bene da lontano da lontano lo vedo bene ecco allora ragazze esatto rimane così si 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 avvicinava bene devo solo far vedere la trama a me non interessa il colore per vedere la trama giustamente vedete che si vede che è maglia ecco sembra maglia il colore è quello che vedete qui quindi un rosa cameo stupendo e meraviglioso eh oggi stiamo usando l'altro telefono bene abbiamo ancora forse qualcosa si chiedete non so che cosa abbiamo di rosa in magazzino questo è un completo taglia 54 delizioso guardate ragazze che è stupendo lo prendete lo spezzate fate quello che volete guardate ci mettiamo sotto volete mettere sotto il bianco? ok volete mettere sotto il bronzo? ok 39 euro la maglia volete mettere uno spezzato con sotto il calzone taglia 54? 39 euro a palazzo l'ultimo rimasto fatelo fate i vostri spezzati fate i vostri giochi fate quello che volete i prezzi sono imbattibili dimmi Katia Katia chiede 79 o 69 il cappottino? 69 parlo del cappottino questo 6,9 questo c'è così c'è nero c'è cammello e c'è eh pavone pavone 6,9 costava 119 euro non abbiamo niente a 79 euro abbiamo 6,9 questi e altri cappotti questi e altri cappotti questi a 89 euro qui siamo arrivate ok quindi cosa facciamo vedere? facciamo vedere di tutto un po' il nostro il nostro jeans il mum quello che si stringe sul fondo a 49 euro lo vogliamo vedere dalla XS alla XL ma non so più cosa è rimasto vogliamo vedere la nostra maglia e adesso questa è stata abbinata qui però questa è una 54 quindi ve la posso far vedere magari con qualche cos'altro comunque facciamola vedere ehm spezzate non sono stata io a fare questi abbinamenti ovviamente e queste credo che ci sono solo tagli alte e 39 euro è una meraviglia il il invece jeans lo abbiniamo a questa maglia 39 euro che è stupenda e meravigliosa vedete lo stai guardando oh minio secondo te io non l'ho già visto ho il suo cuore dietro secondo te io non l'ho già visto cioè io sono il cuore che mi eh guarda te volevo far finta di niente ma te non guardarmi perché poi dicono ma la Gabriele è super pignola beh e sono arrivata e a sbacchettare bene perfetto ehm il cuore va davanti quindi ehm se hai visto io l'ho messo davanti lo stesso certo ma si vedeva il collo un po' strano quindi amori miei dai cavolo 30 euro questa dolce vita meravigliosa con questo eh jeans che è fantastico elasticizzato e facciamo vedere un abbinamento poi eh questo abito stupendo meraviglioso fatto così eh particolare ovvio che questa è una 40 una 42 ragazze non fermiamoci lì potrebbe metterlo potrebbe mettere una 44 che gli piacciono le cose inciucciate e fin lì ci arriviamo perché sapete che a volte sono delle lotte eh sono delle lotte a dover dire no non te lo mando non ti va bene ma sì lo metto lo stesso no non te lo mando non ti va bene ok perché io eh sostengo che comunque bisogna rimanere in quello che è la raffinatezza vabbè qui mi è stata messa questa gonna abbiamo mille maglie da metterci sopra ragazze mille è ovvio che non va con questo abito ma abbiamo mille maglie di tutti i colori a 30 euro da buttare qui sopra non ultimo anche camice quindi 39 euro è uguale a quella nera che vi ho fatto vedere prima e eh tutti questi abiti in maglia li abbiamo portati tutti 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 a 49 euro ok amori miei quindi che dire se non che è una meraviglia bene eh qui abbiamo ecco perché alla fine vabbè facciamolo vedere così questa giacca è sfusa una taglia 40 possiamo abbinarla per dire eh con il mum capite che quando avete questi articoli nell'armadio siete voi a decidere con che cosa poi abbinarli ok possiamo per dire anche prendere questo abito che è una delizia l'avete visto indossato a me e me lo sono anche comprata ce l'ho a casa perché trovo che questo abito portato con un biker eh con questo spacchettino è un abito da giorno può diventare anche per dire elegantino se uscite una sera a cena però è dinamico è bello portato anche con la scarpa bassa o con una scarpa ginica con il calzino che esce inventatevi poi voi se volete abbinare anche la giacca sopra potete farlo diversamente lo portate così in versione tranquilla tutti questi peli fatti a gilet che è quello che indossa il manichino e devo dire che qui mi è rimasto credo solo verde sì allora questo colore verde è rimasto ok Kate sì a 59 euro il che è una delizia lo buttate sui cappotti sui giubbini in ecopelle li andate ad appesantire tutto quello che volete ragazzi ok è delizioso Tyler 54 facciamolo vedere per le nostre morbidose perché visto che questa taglia ancora c'è perché non farla vedere ed è stupendo 52 54 in questo 54 poi se voi siete quelle che dicono sì io lo voglio inciucciatissimo anche di più fate quello che volete ragazze 59 euro la giacca perché quella 7 ottavi che costava 99 e sempre 39 euro il calzone sempre in crete magica e vedete poi scegliete voi in base ai vostri gusti in base agli abbinamenti che volete fare in base alle calzature scegliete voi cosa abbinare ok i prezzi degli obietti qui arriviamo a che cosa stupendo stupendo ma io non so se ce l'ho qui da provare posso provare questo il cappotto palloncino ragazze cappotto guardate questa stola se non è meravigliosa visto che eravamo in tema di questi colori abbiamo abbinato questa qui il cappotto a palloncino questo è una 52 veste molto molto ma molto bene arriva fino alla taglia 54 cosa vuol dire palloncino vuol dire che ha una vestibilità vediamo se riesco a mettervi questa è una 44 a me sicuramente grande però ve lo faccio vedere ragazze perché è delizioso allora vediamo vediamo in tutta la sua forma l'avete visto indossato a asimo ok adesso io ve lo chiudo dalla 40 alla 54 e vi faccio vedere la cadenza di questo cappotto quanto è bella vedete vedete la meraviglia di questa forma stesso tessuto che vi ho fatto vedere prima quindi è quel panno elasticizzato sapete ragazze che lo potete portare anche come interno c'è ci mettete i leggins una bella maglia lo portate come volete è comunque caldissimo è un cappotto a tutti gli effetti se vogliamo guardate l'ultimo abito rimasto ma dai che bel completo è qui ma dai ma dai tanta roba ragazze guardate qui la meraviglia e tutto viene come per magia fate i vostri abbinamenti e sarete diverse tutti i giorni tutti i momenti della vostra giornata in base a come vi cambiate o a come vi sentite abito meraviglioso tessuto tecnico semirassicizzato scontato a 49 euro una taglia 54 e il nostro cappotto a palloncino ma anche il prezzo vero non ce la posso fare vuoi tirare indovinare cate 69 euro 69 euro l'abbiamo bianco e lo abbiamo cammello cioè qui divento seria perché qui mi duole il cuore sì care mia perché qui non c'è neanche il prezzo del tessuto nel taglio della della modellista e di chi più ne ha più ne metta quindi dobbiamo ringraziare il nostro ale amore diciamo dalla 40 alla 54 è proprio bello proprio bello come 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 cade quando lo indossate e questo abito è l'ultimo e ragazze che la 54 si faccia avanti qui perché la nostra regina di cuori quando l'ho indossato mi avete chiamata così regina di cuori bello questa cosa mi piace mi piace essere definita regina di cuori dovrò dirlo a qualcuno che dici cate non mi estengo la mia regina di cuori mi piace questa idea posso proporla cosa dice mirca ma è dimmelo tu dai guardate questo cioè io non lo metto più giù questo qui è il primo che deve partire lo amo in particolar modo troppo bello questo meraviglioso ma è taglia unica fa parte di un altro genere ma anche questo ha una vestibilità eccezionale vedi carte quando vi obbligherò no guardate la carta giro quell'attimo ma ha incrociato gli occhi si è bella e l'hai fatto brava e non c'è via quella faccia fai quello che vuoi ma questi capi se me li indossate tu e simo cioè boom capito io bisogna dire boom voglio che le nostre amiche morbidose vedano queste cose indossate marina mi ha scritto oggi era disponibile a venire marina mi scuso con te chiedovenia perché non sapevo le taglie che avevo in negozio dovevo decidere i prezzi con Ale dovevo preparare lo stand sono arrivata questa mattina e non potevo dico non potevo fare questa cosa con te ve lo svelo abbiamo in così prospettiva futura di carte non perché voi non lo farete perché vi arrangiate lo farete anche voi ma la nostra mari dinamica bella solare che è cambiata da così a così da quando ha conosciuto Gabri vero Gioia non so se l'hai vista no per oggi non passiamo bene è disponibile a venire come è morbidosa a indossare un po' di capi quindi faremo fare la sfilata alla nostra marina devo solo avere il tempo quindi credo settimana prossima non so come cadono queste vestività ci sono anche ormai ragazzi questi sono prezzi che andiamo avanti con questi prezzi perché non aspettatevi che io ho anticipato e la cosa va così ultimo calzone taglia 54 a palazzo vogliamo mettere questa bellissima camicia sopra lo facciamo 49 euro e 39 euro il pantalone facciamolo bene bingo accendiamo tutto questo abito 30 euro lo vogliamo fare ragazze abbiamo qualche taglia è una 54 è un tubino meraviglioso il colore è stupendo 30 euro ma voi pensate se 30 euro perché è stato tagliato un'altra stagione ma è il nostro tessuto dei nostri tailleur che non so capi questi tailleur se ha lì a giù dovrò chiedere il prezzo oggi non lo so questo non è ormai non so cosa giù ho dopo sentuale e vi dirò che prezzo possiamo fare ma è lo stesso tessuto ok 30 euro invece di 79 euro chiedete su whatsapp vedo che ne abbiamo 4 o 5 quindi vi dirò poi le taglie dimmi cate abbiamo mariella che chiede se la storia di pelo in pizzo è scontata no al momento 59 euro perché ritengo che il prezzo guardate ragazze è a parte che ne abbiamo ancora di là non credo che solo questi due si è quindi capisco 59 euro è regalata guardate andate a prendere il pizzo andate a prendere questo pelo fatela io a volte sapete essendo figlia di sarti inizialmente quando non ero giovane non ero ancora inserita è certo che mi faceva le cose mia mamma per forza quando ho iniziato a lavorare ho detto ma di che mamma lascia stare non c'è più verso non possiamo più competere queste cose 59 euro guardate la delizia e la meraviglia addirittura abbiamo problemi a intuire o a capire se sono peli veri o se sono peli diciamo ecologici perché sono una meraviglia 59 euro e vi sono ecco qui il nostro completo morbidoso quello che ho fatto vedere prima che la nostra amica ci ha chiesto nel verde e che ho detto c'è qualche pezzo nel nero pochissimi nel bianco qualcosa invece nel verde e in questo color orchidea meraviglioso ma mi vedete carica oggi vero che sono carica si mi sento proprio bene proprio bene 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 prossimo giro guarderemo le borse ragazze ok la vostra gabrie è sul pezzo vi farà bene con tutto 39 euro 39 euro il pantalone ma considerate ragazze i prezzi iniziali eh 49 euro questo meraviglioso quando cada vuol dire che è venduto però è vero che ci sono le grucce che a volte non tengono poi questa è una misura grande una 54 andiamo a bloccarla qui con l'etichetta con la nostra etichetta meravigliosa voi sapete che quando c'è questo cuore è sinonimo di garanzia di 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 vedete made in italy che ridere made in brescia ovviamente eh quindi 39 49 e 39 euro questa è una taglia XXL quindi restiamo fino a una 54 comoda 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 torniamo serie ho fatto un angolino blu e bianco pochi pezzi questo è il taglio che vi dicevo prima ed è solo una taglia 40 quindi chi di voi ha una prospettiva se il blu si vende in inverno perché questo appena è stato tagliato si vende in primavera fate quello che volete fate il vostro gioco come vi dico io 59 euro la giacca 39 euro il calzone e la natalia 40 42 qui abbiamo che cosa camicia azzurra meravigliosa 39 euro eh raso crepa inversa ten la nostra camicia meravigliosa questa è rimasta solo nel blu c'era anche bianca finita 49 euro questa 39 euro 49 euro e 49 euro con che cosa andiamo a mettere possiamo combinarle con i nostri calzoni eh li abbiamo così ma abbiamo anche quelli in fantasia col il rombo con il rombo che io credo porteremo a 39 euro anche quelli quelli in tessuto tecnico super elasticizzato che è una specie di crepe una specie di bengalina sicuro 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 lo dico Ale ma ve lo dico io che sono a 39 euro quindi questo anzi dopo vado a prendervelo così ve lo faccio vedere perché questa camicia azzurra è il suo quindi non l'abbiamo no di un altro colore quello lo diamo con il coliole verde con il verde che poi ragazze possiamo andare ad abbinare con le giacche che vi ho detto adesso io ve lo do a 39 euro questo calzone ragazze quindi decido io quindi gli abbinamenti li fate così tutte le maglie lilla bianche verdi tutto quello che volete eh è una delizia ricordami che lasciamo fuori che così poi lo prezziamo e avvisiamo Ale eh dicevo grigio 39 euro queste meravigliose dico meravigliose camicie a 49 euro e questa 39 euro ok eh da portare con cosa bonjour ciao da portare con cosa con i jeans jeans che io direi restano ah va bene scontiamoli a 59 euro capi questi jeans meravigliosi di Lisa Cotte sono diciamo eh uno skinning questo ha praticamente vedete il lo strappo questo praticamente più skinning più asciutto ma meraviglioso e bella l'idea di eh vedete portarlo con la camicia azzurra devo dire che vediamo un attimo devi passare Simo passa pure vai pure salutare la nostra amica ciao ciao bimbe è bellissima l'idea di portare anche un pelo come questo e farlo abbinato per dire con la camicia con la camicia azzurra questo pelo in questo colore l'ultimo colore a 39 euro guardate quanto è bello visto che siamo in tema di bianco e blu lo possiamo considerare ok quindi 59 euro i jeans 39 euro il calzone 49 euro la camicia e 39 euro questa azzurra poi le taglie ragazze tutto partiva dalla 40 alla 54 chiedetele e vi diremo su whatsapp certo che bellissimo vedere anche un maglioncino così vedete un golfino così a 49 euro su un jeans così lo vogliamo vedere ne ho trovato un pezzo bianco quindi io ve lo mostro e ve lo anche perché lo potete buttare un po' su tutto molto 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 bello anche questo stupendo anche questo io direi tutte le maglie abbiamo detto a parlo di maglie 30 euro cater quindi la lasciamo fuori anche questa qui poi la modifico guardate la meraviglia di portare il jeans con queste caramelline dai ragazze oramai io sento aria di primavera vedete poi voi cosa pensare ma a me piace da morire sa che un inverno che non è mai partito e di conseguenza è una delizia volevo farvi vedere il giacchino a 69 euro bon ton qui bellissima la stola a 20 euro 69 euro dalla 40 alla 54 e vogliamo dirla tutta ovviamente questo è una taglia 40 le camicie a seconda degli assortimenti abbiamo qualcosa sicuramente in più arrivano fino alle taglie più grandi cappotto unico cappotto esistente blu dico unico taglia 46 quindi chi ha voglia si vede bene il colore si è il suo ok è esattamente questo volete mettere il collo di pelo 39 che ho fatto vedere prima fatelo volete mettere delle stole che diano colore fatelo ma questo blu ragazze sarà il cappotto a parte per quello che è per la morbidezza per quello che è questo cappotto che è anche questo da farsi accarezzare quando avete questi capi qui fatevi accarezzare e tutti gli diranno mamma mia che bell'effetto come siete morbidose bene 89 euro solo lo ripeto taglia 46 ok è solo il verde che abbiamo tre taglie basta arriviamo al palloncino che ho fatto vedere prima a 69 volevo appoggiartela lì sì per fartela indossare io preparo tutto va bene mi abbasso tanto ho riposato posso anche fare un po di ginnastica una delizia adesso ve la indosso esatto grazie non so perché tante chiedono la misura di sto storia è una storia ragazze è una storia adesso aspettate perché perché più è ampia meglio è no cioè più avvolgente meglio è comunque la finiamo qui con questo cappotto a palloncino mi viene male 69 euro ragazze dai non so perché mi ha fatto fare questi prezzi cioè se poi ci mettiamo sotto un jeans con questa stola cosa dite ragazze jeans abbiamo anche qualche taglia grande quindi chiedete 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 diversamente a parte la parte mettere il cappotto blu qui sopra ma questo abito maglia è l'ultimo blu che abbiamo a 79 euro possiamo pensare di mettere magari questa gonna questo che sto facendo vedere adesso abbiamo avuto fino alla taglia 52 54 tranquillamente vero Katia quindi vogliamo fare questo abbinamento con il diciamo la gonna 39 euro e questa maglia e poi completarlo per dire buttando il palloncino avete idea di come sta questo questo abbinamento qui ma lo vedete dai ragazze 79 39 e 69 euro il cappotto stiamo parlando di quindi taglia anche c'era 42 dalla 40 alla 54 ovviamente magari non avremo tutti i capi eh vabbè ragazze disgrazia fermati lì ci sarà un motivo ma secondo me assortito ultima maglia 20 euro questa lavoriamo un 42 44 46 massimo diciamo 42 44 anche perché questa la manichina un po' probabilmente ha una taglia piccola rispetto a quella che era una media dai 40 42 44 non oltre 20 euro la vedete ma meraviglia abbiamo ancora qualche copri tutto vedete con il collo dolce vietta ma aperto sotto praticamente è aperto ma dove voi infilate il braccio vedete sotto avete questo effetto che è a dir poco meraviglioso bene blu 20 euro non a misura non a taglia perché ovviamente le nostre maglie basiche a 30 euro e sono volete fare anche un abbinamento fare un gemello fate la maglia e fate il la mantella sopra e poi sotto ci buttate quello che volete ragazzi questi tre pezzi sono a 20 euro ok il giacchino bon ton ne è rimasto uno taglia 54 e quello della stagione precedente cosa ha di diverso da diciamo quello che ho fatto vedere prima nel bluetti il tessuto cioè non è questo panno ma il tessuto praticamente del cappotto quindi vedete questa lisca di pesce questa morbidezza sono entrambe morbidi entrambe bellissimi però chi desidera questo l'ultimo taglia 54 è una delizia 52 54 ok a 59 euro ok questo cosa volete fare volete prendere questa camicia 49 e metterlo qui sotto fatelo volete metterci sotto un jeans fatelo volete metterci sotto il capo il scusate il calzone a 39 euro soprano italia 54 blu fatelo quindi 39 euro questo è quello che ha a zampetta con lo spacco all'interno della gamba quindi stupendo meraviglioso sinuoso e femminile lo potete abbinare per dire anche la camicia blu alla camicia azzura come volete 39 euro 49 euro la camicia costava 79 e 59 euro il bonton facciamo che l'ultimo completo ve lo faccio così prendendo l'ultima giacca taglia 52 e credo che sia proprio l'ultima ma qui ogni tanto facciamo i miracoli proviamo a vedere la giacca diciamo cardigan col cappuccio scontata a 49 euro questa stola meravigliosa a 49 euro ma guardate ragazze guardatela guardate che cosa non è questa stola avevamo avuta anche la stagione scorsa ma io nel vederla l'ho ripresa anche perché anche il nostro fornitore l'ha rifatta cosa vogliamo dirvi calzone ragazze 39 euro soprano italia 52 54 ok giacca col cappuccio questa stola meravigliosa guardate voi con questo abbinamento siete pronte da qui poi volete sopra questa tirarci questo fate quello che volete avete qui degli outfit meravigliosi da girare e da indossare diciamo a più strati viste le stagioni che in cui ci troviamo dicevo con questi capi arrivate fino a primavera inoltrata cioè quando voi dite aprile maggio marzo queste cose le portate da adesso e arrivate fin lì fin lì fin lì capite ragazze allora io direi che vi ho fatto non sull'orologio vi ho fatto sicuramente abbastanza compagnia avevo una voglia incredibile di arrivare a voi anche perché devo dire che quando non ci sono mi mancate la mantella si la mantella subito subito la mantella allora scusate perché la nostra amica voleva che la indossassi ecco il dritto è questo perché il dritto perché c'è il gancio vedete praticamente voi la indossate non so che cosa perché fa testo un indosso di questo di questo capo ecco zac aspettate che mi sono impigliata ho una g nel adesso ti devi disincastrare ho una g nel braccialino e ogni volta mi si incastra perfetto c'è guardate se mi aiuti aspetta allora che giro da qualche parte vediamo tiralo fuori che si incastra sempre in maniera vediamo ragazze tiralo tieni aspetta aspetta un attimo tieni ecco aspettate che ce la sto facendo in un'altra maniera ok così allora praticamente scusate praticamente qui che cosa ha un gancio quello delle pellicce voi la potete portare in sbieco potete portarla girata avanti potete lasciarlo aperto per fare quello che volete è l'unica cosa che non è a misura ecco perché ogni tanto mi stupisco della prova però è l'unica cosa che non è a misura l'avete vista indossata a me in tanti video perché francamente l'ho indossata perché è bellissima vi dico che quando vi arriva a casa dovete solo scuoterla un attimo perché se perde il pelo lo perde ve lo dico subito da dove è stato tagliato ok un filino niente di particolare sono rimasti due colori giusto abbiamo detto ok re indosso in maniera ma c'è proprio guardate questi capi non so di essere vestita a strati vuoi perché la giacca è elasticizzata vuoi perché questo anche e deve essere un attaglio a 40 esatto quella che poi ho acquistato in tutti e tra i colori verde nero e questo colore a 89 euro invece di 129 quindi vedete la giacca scontata a 49 l'abito scontato a 49 ma di cosa stiamo parlando ragazze dicevo che avevo voglia di tornare da voi perché quando non ci siete mi mancate soprattutto sapere di tornare con questi prezzi e con queste offerte ragazze quindi concentratevi guardate questo video chi di voi magari arriva a lungo in tutte le festività godeteve quando vi ritirate a casina vostra avete non so nostalgia guardate la vostra gabri vedete tutti i video andando indietro li trovate su facebook li trovate sul sito www.gabriestabiliamentodonna.com mi trovate su youtube sul canale youtube iscrivetevi andate a vedere tutto divertitevi a guardare i commenti guardate anche i miei ricordi che sono se sono qui è perché voglio dire c'è stato qualcosa prima di me e ragazze basta ci vediamo oggi che cos'è ho perso il conto mercoledì bene allora ci vediamo venerdì cosa dite siamo operative scrivete assolutamente su whatsapp ok amori miei vi adoro baci grandi ciao